buongiorno a tutti giovedì 2 dicembre e oggi gli argomenti da trattare sono principalmente due in primo luogo quello che ho messo in copertina il rinnovo di paolo di bala che fine ha fatto allora sono mesi e mesi che ne stiamo parlando inizialmente la scusa era è cambiata la dirigenza andato via paratici quindi con la nuova dirigenza si è ripartiti quasi da zero i discorsi e quindi l'estate è passata non hanno ancora concluso l'accordo ma per settembre ci sarà la conferma poi a ottobre se vi ricordate bene molti youtuber tra cui alcuni miei amici che saluto ciao hanno fatto tutti lo stesso giorno il mega video yeah di bala rinnovato vai ufficiale io invece dicevo ragazzi di ufficiale non c'è niente non è uscita nessuna ufficialità io il video non lo faccio e infatti non l'ho mai fatto pur continuamente monitorando la situazione poi ci siamo tutti lasciati prendere giustamente dalla stagione dal calcio giocato che ci ha dato mille spunti di riflessione purtroppo più brutti che belli l'ultimo aggiornamento che avevamo era c'è la pausa nazionale quando finisce la pausa nazionale di bala tornerà dall'argentina con orgue antun il suo procuratore e ufficializzeranno il rinnovo non è successo perché di bala aveva avuto un risentimento muscolare è tornato un paio di giorni prima non con orgue antun quindi lui non è mai venuto a torino ho cercato di informarmi da quello che avevo raccolto era no non è ancora venuto perché è ancora in argentina sta firmando gli ultimi documenti preparando gli ultimi documenti con l'avvocato poi arriverà probabilmente ai primi di dicembre così si diceva insomma tutto un procrastinarsi stamattina leggo una notizia sulla stampa vista la situazione delle indagini e dell'ufficio legale della juve impegnatissimo con questa cosa il rinnovo di di bala deve aspettare c'è già l'accordo con la juve ma bisogna poi stabilire una data punto non viene ben specificato il perché sembrerebbe che visto che la juve non sa come finirà questa roba questa indagine delle plus valenze e non sa se magari ci saranno delle multe ci saranno delle sanzioni delle cose da pagare il rinnovo di di bala è in stand by ragazzi a me questa cosa sembra non una barzelletta peggio sembra una presa per il culo io vi dico da quello che posso dirvi le persone con cui ho parlato io che poi le conoscete non tutte effettivamente perché alcuni li ho portati sul canale comunque mi hanno detto dan tranquillo il rinnovo si farà il rinnovo è pronto è lì sul tavolo quindi sono una questione di aspettare siamo al 2 di dicembre appunto e come ben sapete da gennaio di bala avrà la libertà di firmare con un'altra squadra essendosi essendo svincolato il famoso termine svincolato no quindi il contratto scade a giugno e lui da gennaio può avere da da legge il diritto di prendere accordi con un'altra società ora io sono sempre stato abbastanza fiducioso sul rinnovo di di bala nel senso che secondo me al di là del fatto che di bala possa andare via effettivamente l'estate prossima ma il rinnovo comunque andava fatto perché perché la juve non si poteva permettere di perderlo a zero ma sta di fatto che io personalmente penso che di bala rimarrà la juventus questo è il mio pensiero credo che sia il pensiero del 99 per cento dei tifosi bianconeri non attenzione non sto dicendo perché di bala è fortissimo il nostro capitano del futuro non sto facendo quel tipo di discorso sto parlando di una roba veramente pratica e amministrativa il rinnovo a di bala va fatto punto ok poi c'è chi di voi lo vuole vendere chi lo ama la follia questo è in questo momento parcheggiamo questo discorso ok il discorso è diverso siamo al 2 di dicembre il rinnovo non c'è stato quindi questo motivo in più e quando io vi dico faccio pochi video e cerco di farli quando ho qualcosa da dire io spero che appreziate questo modo di fare perché io voglio tanto bene rispetto molto gli altri youtuber che fanno video tutti i giorni e e devono farlo tra virgolette devono ok quindi se un mese e mezzo fa l'argomento era di bala è ufficiale rinnovato questione di giorni esce l'annuncio hanno fatto tutti il video su questa cosa io no perché ho pensato ditemi se ho sbagliato che faceva fede avrebbe fatto fede il comunicato ufficiale della juve cosa che non c'è mai stata ovviamente com'è la situazione oggi bo bo perché ripeto a me mi hanno rassicurato come stanno rassicurando tutti voi come potete leggere in giro che di bala rinnoverà l'accordo è già stato trovato eccetera eccetera però mi sembra veramente una roba assurda arrivare al 2 di dicembre e non avere ancora questo accordo in mano è vero che di bala non è l'unico non non è l'unico big perché c'è anche quadrado anche quadrado ha un contratto che scade a giugno e ancora non ci sono notizie di un rinnovo anzi non ne parla mai nessuno però su quadrado pare che ci si metta d'accordo alla fine della stagione e sarà prolungato di un ulteriore anno qualcosa di simile che è stato fatto con chiellini addirittura se vi ricordate con chiellini il contratto è scaduto a giugno scorso lui ha giocato gli europei da svincolato quindi non era un giocatore della juve quando è tornato con molta molta calma è stato ufficializzato il rinnovo a giorgio chiellini vi ricordate però chiellini ha 37 anni è una situazione totalmente diversa io il rinnovo di di bala me lo sarei aspettato prima sinceramente e non dico a giugno però almeno a settembre cioè dal momento in cui hai saputo che ronaldo non farà più parte della della squadra a quel punto punti su di bala ufficializzi il rinnovo di bala il contratto di rinnovo di di bala so essere molto complicato perché include dei bonus in crea crescere anno dopo anno include sicuramente il discorso dei diritti d'immagine non è un contratto facilissimo e quindi ci sta che sia anche di difficile stesura però ragazzi e concludo questo discorso poi passiamo al modulo che vi ho citato nel titolo il cambio modulo previsto da allegri a me io mi sento un po' di di bala quindi ditemi la vostra magari oggi pomeriggio domani mattina nel weekend ufficializzeranno il rinnovo io sto parlando ovviamente con le notizie che abbiamo oggi 2 di dicembre ora veniamo al secondo argomento che ho accennato nel titolo vi dico due minuti il mio pensiero pare che allegri si sia deciso a cambiare modulo il 4 2 3 1 che ha schierato non per tutta la partita ma per gran parte la partita con la salernitana lo ha convinto e abbiamo giocato bene gli interpreti sono stati messi nei posti giusti eccetera eccetera ora facciamo un passo indietro l'estate scorsa tra i vari ospiti che ho avuto nelle mie dirette tra cui in primis franco leonetti ottimo giornalista torinese lui che è molto vicino agli ambienti bianconeri e di allegri aveva detto che allegri aveva già in mente il 4 2 3 1 poi come ben sapete fino adesso ha giocato con un 4 4 2 contestatissimo ok io mi chiedo ma servivano 15 partite di cui 12 giocate malissimo per rendersi conto che il 4 4 2 non funziona per rendersi conto che l'idea che avevamo tutti quest'estate magari lo stesso allegri anche alla fine era quella migliore da schierare perché io la penso così ragazzi non sono un allenatore di calcio ma posso avere il diritto di dire la mia anche su questa cosa quando hai un centrocampo scarso come ce l'ha la juve puoi fare due scelte o metti tanti centrocampisti o ne metti il meno possibile allora per metterne tanti per esempio puoi giocare con un 4 4 2 ma i quattro centrocampisti non devono essere in linea non devono essere due centrali e due esterni perché noi non abbiamo quei ruoli lì puoi fare una sorta di rombo quindi un centrocampista difensivo davanti alla difesa due centrocampisti centrali e un trequartista centrocampista no un rombo allora avresti potuto mettere per esempio artur locatelli bentancur e mccenni davanti oppure quando non c'era artur metti locatelli davanti alla difesa metti bentancur e rabbio e davanti metti mccenni e giocare con quattro allegri fino adesso ha giocato praticamente con due centrocampisti centrali uno adattato a esterno sinistro rabbio della situazione e poi chiesa fatto morire a fare l'esterno di centrocampo che ben sappiamo non è il suo ruolo ok perché è troppo lontano dalla porta il 4 2 3 1 è un modo per giocare sempre con due centrali di centrocampo ma riempire lo spazio con tre trequartisti che lì li abbiamo perché ci abbiamo kuluseschi o abbiamo di bala abbiamo morata che può giocare sia davanti che a sinistra comunque di là puoi avere chiesa bernardeschi c'è le soluzioni lì le hai giocando con due centrali di centrocampo quindi diciamo una juve più sbilanciata da un punto di vista offensivo non di troppo ma comunque con dei giocatori giusti al posto giusto il 4 4 2 che io ho sempre contestato avendo questi due esterni rabbio e chiesa nel caso specifico non non ci portava da nessuna parte perché davanti eravamo scarichissimi ok e il centrocampo a due era un colabrodo quindi io sono contento se allegri opta per il 4 2 3 1 perché come vi ho detto prima quando hai un centrocampo scarso o ne metti quattro tutti insieme così in quattro ne fanno due due normali e forse te la cavi ma giocare come ha giocato fino adesso è un disastro oppure ne metti meno possibile quindi meno possibile metterne due ma così con un 4 2 3 1 non con un 4 4 2 io spero di essere stato chiaro che abbiate capito la mia visione tattica è vero che la tattica non è tutto nel calcio assolutamente no ma i ruoli sì i ruoli sì e ci sono dei giocatori che messi fuori ruolo non renderanno mai bene e quindi io spero che questo sia l'inizio di un miglioramento qualitativo che sia anche la possibilità di trovare il giusto spazio per dibala in primis che è giusto in un 4 2 3 1 che sia il terzo diciamo dietro la punta quello centrale che sia il modo anche di far giocare chiesa un po più avanti un po più vicino alla porta che sia un modo per giocare più spesso con kuluseski perché bisogna pur metterlo alla prova questo ragazzo altrimenti non si sa mai dove metterlo e eccetera 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 si aprono degli scenari diversi e a questo punto possiamo anche rinunciare a dei centrocampisti senza averne per forza sei o sette in rosa per esempio perché se ne devono giocare soltanto due giusto una volta che ne hai quattro magari vai a coprire intanto altre posizioni per il momento poi è ovvio che il centrocampo juve deve essere ricostruito questo ce lo diciamo tutti i giorni ragazzi grazie di avermi ascoltato in questo mio monologo vediamo ragazzi se ci saranno notizie sul rinnovo di dibala intanto ditemi il vostro pensiero qui sotto nei commenti e fatemi anche un commento sul su questa situazione del modulo che vi ho descritto ci vediamo molto presto e sempre forza juve